Sitin di protesta davanti ai cancelli della discarica di Roccasecca in merito alla valutazione dell'ampliamento emersa nell'ultima riunione svoltasi in Regione Lazio per fronteggiare l'emergenza rifiuti scaturita dalle ultime vicende giudiziarie. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Roccasecca, Giuseppe Sacco. C'è stata questa riunione in Regione, abbiamo accolto ovviamente con favore due aspetti importanti che sono emersi, intanto che la discarica dopo tanti anni di attività finalmente chiuderà i suoi cancelli e questo è un sollievo per il territorio, dall'altra la disponibilità da parte della Regione in accoglimento della nostra istanza a rivedere quell'autorizzazione rilasciata sul quinto bacino. È un elemento che però ci preoccupa perché ci saremo aspettati da parte della Regione un'iniziativa diretta intesa ad annullare quei provvedimenti anche alla luce delle vicende giudiziarie sulle quali non entriamo nel merito ma che abbiamo appreso proprio per mano della stampa. È ovvio che l'interlocuzione con la Regione che ci vedrà protagonisti nel procedimento di revisione del procedimento da parte nostra ovviamente vedrà una posizione ferma, intesa ad ottenere la chiusura di questo sito. Però ci preoccupa anche la situazione surreale che si è creata e che ripercorre un po' quello che è successo negli ultimi anni perché apprendere dal gestore cinque giorni prima che si esarisce una discarica nello stupore generale da parte della provincia di Frosinone e della Regione Lazio soprattutto che sono preposti alla programmazione del ciclo rifiuti è un elemento che ci destra preoccupazione ma che ci insospettisce ovviamente visto che veniamo da anni di mortificazioni. È ovvio che non deve essere l'ennesima scusa per ampliare in deroga alle normative. Il nostro territorio ha già dato, ha già subito mortificazioni e chiediamo proprio per questo motivo e per quello che abbiamo appreso alla stampa che per la prima volta dopo anni venga chiuso finalmente questo impianto.